Buongiorno, sono Stefano Colombo, Exhibition Manager di BIT Fiera Milano, che si svolgerà in presenza finalmente a febbraio dal 13 al 15 febbraio del 2022. Sono qui a Napoli alla BMT ed è un vero piacere partecipare a questa prima manifestazione in presenza. Sto incontrando veramente tanti colleghi, tanti amici, tanti operatori del settore, quindi faccio i miei complimenti a BMT per aver organizzato questa manifestazione e avere una così numerosa e qualificata presenza. Quindi è un'occasione eccellente per incontrarsi, per parlare e per sperare tutti insieme per un'estate 2021 che possa in qualche modo riprendersi in modo significativo e soprattutto per riprogrammare il 2022. Quindi grazie ancora e grazie anche alla TV dei viaggi di questa opportunità di poter salutare tutti. In bocca al lupo a tutti!